Tra i consorzi colpiti dal sisma è anche quello della pianura di Ferrara. Siamo andati a sentire il Presidente Franco Dallevacche. Presidente, qual è la situazione per il Consorzio Pianura di Ferrara? Ferrara, fortunatamente, il nostro consorzio è stato interessato in modo relativamente marginale. Ovviamente nei territori che ben tutti conosciamo, Poggio Renatico, San Carlo, Sant'Agostino, parte del Bondenese. Quindi tutta la parte è prospiciente verso Modena. Qui i danni sono dei danni sostanzialmente, diciamo, in parte in corso di scoperta, perché sono soprattutto delle linee idrauliche, a volte delle botti, dei sottopassi. Non abbiamo impianti idrovoli importanti, quindi tutte questioni legate alla derivazione. E oggi non abbiamo situazioni particolari. Detto questo, tutti gli impianti idrovoli del Consorzio, sia in ambito di scolo, sia di derivazione, sono efficienti al 100%. Quindi nessuna preoccupazione per la derivazione e neanche per lo scolo. Ecco, sulla derivazione noi siamo tributari, diciamo, per la parte del basso ferrarese, per la destra volano, dall'impianto Pilastresi. L'impianto Pilastresi sta lavorando con un sistema sussidiario, che è previsto specialmente per le maghe di Po. L'impianto principale è fuori servizio, ma non per il tremotto, perché era interessato degli importanti lavori di adeguamento, proprio per contrastare le maghe di Po. Nel corso dei lavori erano state rilevate alcune difficoltà, quindi sapevamo che l'impianto, sostanzialmente, per questa stagione era persa. Noi abbiamo bisogno, mediamente, di circa 28-30 metri cubi, a volte anche delle punte maggiori. La stagione è partita male, abbiamo anticipato la derivazione metà marzo, poi ci ha aiutato e ci sta ancora aiutando. Attualmente il sistema sussidiario ci dà 20 metri cubi. Proprio per queste ragioni, indipendenti da altre moto, ce l'avamo attivati prima, abbiamo accelerato la messa in funzione dell'impianto di Ponte Lago Scuro. Pianto nuovo, costato 4 milioni di euro, attualmente è pronto, da un punto di vista delle opere elettromeccaniche, stiamo facendo i collegamenti con la conca. Quindi, praticamente, in buona sostanza, stiamo facendo il buco per riuscire a collegarci a Po. Avremo bisogno di alcune settimane, però contiamo, entro fine giugno, di essere operativi. Questo impianto può portare altri 10 metri cubi, quindi, uniti ai 20 dell'impianto sussidiario, più questi, e comunque anche con un consorcorso della CER, noi, i 30 metri cubi, contiamo di riuscire a garantirli. E comunque, la bonifica farà di tutto per dare le massime garanzie. Nessun problema, attualmente, sui grandi sifoni a Po, con Tuga, Berra, Garbina, Guarda, per le risaie, perché sono fuori, fortunatamente, dalle situazioni. Il consorzio ha avuto un danno importante nella sede legale e amministrativa, perché è un palazzo del Cinquecento, inagibile. Abbiamo una copertura assicurativa importante, e quindi anche questo ci può aiutare. Abbiamo qualche danno in magazzini, in strutture, ma tutti, diciamo, voglio dire, in un ambito controllabile di una norma. Per quanto riguarda l'irrigazione, che diciamo è, in questo momento, la cosa che sicuramente interessa di più agli agricoltori, non ci staranno problemi, o perlomeno adesso non ci sono? Ecco, non ci sono. Stiamo lavorando già con attenzione nella zona di San Carlo e Sant'Agostino, perché lì, in effetti, questa situazione strana della liquifazione delle sabbie ha compromesso in parte la rete scolante, cioè i fossi, praticamente, si sono interrati e quant'altro. Inoltre, dove ci sono tubazioni, le scopriamo quando mandiamo l'acqua e ci sono delle perdite, ecco. Ma oggi non abbiamo segnalazioni di situazioni particolari e comunque sono situazioni che riteniamo di poter gestire e abbiamo, ci capita che abbiamo delle rotture, capita anche con l'acquedotto, si rompe un tubo, banalizzo, diciamo, i nostri tubi sono un po' più grandi e quindi si fanno gli interventi per ripristinarli, ecco. Noi ci siamo preoccupati subito di Sant'Antonino, l'impianto dell'ospedale di Baura, siamo a posto. Prima abbiamo parlato, diciamo, di certezza per quanto riguarda l'irrigazione possiamo rassicurare anche in merito allo sgrondo delle acque, quindi? Assolutamente sì, assolutamente sì, perché è premesso che ultimamente, per la verità, abbiamo le nostre criticità che c'erano prima sono rimaste anche adesso, nel senso che d'estate abbiamo queste piogge alluvionali molto intense che mettono in crisi dei bacini, però, come dico, i grandi impianti di scolo circondariale, Valle Lepri, Codigoro, Argenta Bando e quant'altro sono assolutamente tranquilli e operativi. Se posso dire, abbiamo una preoccupazione, ma antetremoto, della traversa di Val Pagliaro che da tempo è collassata e in una situazione di gestione, diciamo, di emergenza e pensiamo che nel giro di un anno la traversa venga messa a posto perché oggi è chiaro che una difficoltà di scolo a Modena che si scarica tramite la botta napoleonica che ha qualche segno di criticità passa nel volano e viene giù a Val Pagliaro non potendo modulare bene la traversa possiamo avere delle difficoltà, però oggi siamo a giugno andiamo verso un certo tipo di stagione da qui all'inverno credo che si possano fare tante cose. Abbiamo sentito che per il momento l'irrigazione in provincia di Ferrara non sembra essere a rischio naturalmente vi terremo aggiornati e a proposito di aggiornamenti sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno è stato pubblicato il decreto del 1 giugno 2012 di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 30 settembre 2012 per le persone fisiche che alla data del 20 maggio 2012 avevano la residenza o la sede operativa nei territori colpiti dal sisma che si trovano nei comuni di Bondeno, Cento, Mirabello Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano, Mainarda le disposizioni si applicano anche nei confronti dei soggetti anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche aventi la sede operativa nel territorio dei comuni citati per la città di Ferrara la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione dello studio professionale o dell'azienda verificata dall'autorità comunale il decreto si applica naturalmente anche alle altre zone non del Ferrarese colpite dal sisma